A che grande richiesta, ecco lo che è arrivato. Eccolo che è arrivato, quello che piace al nostro caro Terminator. Eccolo, ecco lo che è arrivato, ecco lo che è arrivato. Ecco. 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 Ecco, questa va tolta. Così va bene così dai Allora iniziamo 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 Ho vinto Ho vinto Non qua quindi là Visto? Visto GG Sì Sì anche questa bill è forte alla fine Perché vedi che usando Ti devi ricordare ovviamente Che c'è l'armadietto Sennò come cazzo fai? E lo devi saper usare Noi abbiamo fatto il teleport di là Abbiamo visto che non c'era Siamo tornati L'abbiamo beccato E poi l'abbiamo ammazzato L'altro ce l'abbiamo qui Lo vediamo pure Aspettiamo che l'altro muore Aspettiamo che l'altro muore Siccome non li abbiamo mai messi nel gancio L'altro ha fatto la seconda fase E' finita Adesso crepa E questo crepa a sua volta Allora qui la mia sinistra no? Eccolo qua Vedi ho imparato anche il teleport Ora lo riesco a dominare questo personaggio Vabbè mettiamolo con un amico suo Eh sì Permesso Permesso Ops Ah Eh Barbie vince Mi chiamano Barbie A scuola mi chiamano Barbie A scuola mi chiamano Barbie A scuola La mia vu lessà ÈPP Grazie.